Ragazzi, spariamoci una nuova partitozza su un nuovo gioco della Playstation 4 Allora si tratta ragazzi di Resident Evil 7, deve ancora uscire, mancano ancora 17 giorni 19 giorni anzi, e per il momento andiamo a spararci una demo per vedere di che cose si tratta Siamo pronti ragazzi, allora andiamo a vedere subito una cosa Andiamo subito nelle impostazioni di gioco e andiamo a impostare subito la schermata, cosa molto importante Allora, oscillazione visuale mettiamola, sangue sullo schermo lo mettiamo normale o poco, mettiamolo normale chiaramente Messaggi tutorial sì, icona telefono lo mettiamo, load lo mettiamo tutto quanto, il reticolo mostra soltanto durante la mira Va bene così, per il momento lasciamo tutto ciò, allora impostiamo la nostra luminosità per riuscire a vederci meglio in questo gioco Perché chiaramente sembra un gioco alquanto buio, visto che è del terrore E una cosa importante ragazzi di questo gioco, questo gioco qui, il 7, si tratta di una propria evoluzione della saga di Resident Evil Perché stiamo parlando di un nuovo motore grafico, quindi qui avremo un gioco in prima persona Con tantissima adrenalina e soprattutto suspense insomma, molta paura Perché con questo tipo di visuale chiaramente in questo tipo di giochi ci sbucano i personaggi all'improvviso davanti a noi Che rischiamo di prenderci un coccolone dalla paura che prendiamo Comunque ho provato due minuti la partita prima di fare questo video Ho provato due o tre minuti in questa partita per vedere di che cosa si trattava Mi è piaciuto da subito E infatti conto anche su di voi per vedere se vi può piacere l'idea di portare questa saga sul canale YouTube Quindi spoliciate ragazzi per farmi capire anche se acquistarlo o no Perché abbiamo la possibilità tra l'altro di fare il preordine Che pensavo proprio di farlo Sempre se può piacere anche a voi Fra 19 giorni il gioco esce Facendo il preordine praticamente mi sarà installato il gioco direttamente 48 ore prima dell'uscita In modo che da martedì 24, dovrebbe essere il 24 Cominciamo subito il gameplay di questo gioco Comunque, bando alle ciance ragazzi Guardiamo cosa abbiamo da fare In questo momento Ascoltiamo quello che stanno dicendo Abbiamo un tizio che si rialza Mi sembra che sia stato picchiato notevolmente Ringrazia che sei ancora vivo ciccio Ok Con un coltello in mano Cosa vuole fare lì qua? Penso che nella visuale che stiamo guardando Siamo proprio noi che guardiamo Con i nostri occhi Stai attento a non tagliarmi con quel coso Ci hai sentito rumore Si parte ragazzi Siamo pronti Facciamo caricare il gioco Sembra veramente molto inquietante questo gioco ragazzi Comunque siamo Ho letto un po' la recensione Siamo praticamente in una fattoria abbandonata Del Sud America Adesso vediamo cosa Cosa abbiamo in servo Nei prossimi giorni Questo gioco ragazzi è da giocare al buio Da soli Con le cuffie A manetta Resident Evil Seven Ok Ci stiamo ripigliando Dal trauma Troviamo una via d'uscita Ok Abbiamo come equipaggio in questo momento Evidentemente una torcia Perché qui è tutto buio E stiamo illuminando la scena Ci stiamo già muovendo Notate già subito la grafica spettacolare E la libertà di movimento che abbiamo Cioè con i due padronogici stiamo muovendo il nostro personaggio Ok Cominciamo a leggere Li sfracerò contro la pietra Ok Magari le tazzine Intende Va bene Andiamo Cominciamo subito a cercare Ok Manca un fusibile Ecco Nei Resident Evil manca sempre qualcosa Quindi dobbiamo andare a caccia Apriamo Cos'è che dobbiamo aprire? Ah la porta Quindi dobbiamo andare a caccia Di oggetti Che ci permettono di andare avanti Oh che bel quadretto di famiglia Bello lui Cosa abbiamo qui? Qui non abbiamo niente Qui abbiamo una televisione Ti serve una videocassetta Ok Dobbiamo andare alla ricerca di una videocassetta Intanto usciamo da questa porta Piano piano Zitti zitti Perché non mi sembra un ambiente tanto sicuro questo Usciamo dalla porta Abbiamo la possibilità di andare a destra O a sinistra Andiamo di qua che sembra più luminoso Oh che bel ripostiglio Chiazzo Ecco qui abbiamo delle bamboline voodoo Sembrano ragazzi Non mi sembra un ambiente da rimanere abbastanza qui dentro Io esco in fretta perché non si sa mai Notate anche Il sottofondo music Che cacchio è? Ah è la mia ombra cacchio Notate anche il sottofondo musicale Che abbiamo ragazzi qui Ok Dito del manichino Boh Beh se per caso ci dobbiamo scaccolare il naso Lo possiamo anche utilizzare Ok inventario Premendo il triangolo Andiamo nel nostro inventario Dove Qui andremo a immagazzinare Tutti gli oggetti Che troviamo in giro Come solito Come i soliti Resident Evil Entriamo in quest'altra stanza Allora Esploriamo la zona Qui non c'è niente Fuori si intravede la luce Quindi è già fatta mattina Magari uscire da questa casa sarebbe l'ideale Così come consigliere Prendiamoci una bella coca cola Apriamo il nostro Che schifo Madonna Vi siete dimenticati un po' di carne ragazzi In frego Sapete che dopo un po' si guasta Bisogna cucinarla Qui invece ci hanno già pensato L'hanno cucinata troppo Comunque Cos'è? Ah ok Chiudiamo il rubinetto Non si sa mai che Facciamo dello spreco in questa casa Ok Possiamo procedere No C'era una X qua Che schifezza ragazzi Guardate il dettaglio grafico sulle mani Bellissimo Ok Procediamo Un altro cassetto E qui dove ti giri i giri Praticamente troviamo dei cassetti Un cassetto chiuso C'è una piccola serratura E beh E allora lì Ci servirà una chiave Chiudiamo il cassetto Non si sa mai che mettiamo Mettiamo disordine Che qualcuno ci sgrida qua Ok Procediamo ragazzi Altre X Comunque abbiamo già visto Che ci compaiono le X Anche quando Siamo un po' girati Come potete vedere Che ci saltano all'occhio In modo da poter vedere Dove andare a interagire Con il fondale Allora Qui ci dice che è serrato Da una catena E si vede Quindi probabilmente Dobbiamo trovare una chiave Anche per questo Bene E per adesso Sono due le chiavi Che dobbiamo trovare Questo cos'è? Ah no Non è una porta È appoggiata qui Ok Procediamo ragazzi Apriamo la porta Che schifezza La festa del maiale questa Che schifo ragazzi Bruttissima cosa Qua c'è da ammalarsi su Ok Tronchesi Perfetto Cazzo è questa roba Pupazzo Qui è sto pupazzo Ma dove cacchio È caduto ragazzi Cosa c'è qui sopra? Ti serve una chiave Per uscire Ma va Non ce l'avrei mai detto Che servisse una chiave Per uscire da questa casa Pensavo fosse tutto aperto E libero Strano Comunque C'è caguto Sto bambolotto Che non so Così dobbiamo farci Ma per il momento Direi che non ci serve Procediamo Allora abbiamo preso La La tenaglia Insomma Così scassiniamo subito L'armadio Vediamo di che cosa si tratta Ok Quindi selezioniamo Le tronchesi Tenaglia Tronchese Insomma Quella che è E spezziamo la catena E apriamo questo armadietto Ah ok Sì Insomma A chiave C'è La videocassetta È un oggetto Di molto valore Consiglio a tutti Ragazzi Di mettere le videocassette Negli armadi Con le catene Perché non si sa mai Qualcuno Ce le può rubare Vabbè Ok Procediamo Comunque A parte queste cavolatine qua L'ambiente è veramente Fatto bene E tetro Ragazzi Bel gioco Sì Questo A mio avviso È da comprare Ok Qui ci sono i manichini Bene E che cazzo Ci devo fare Con i manichini Serve a qualcosa Il dito del manichino No perché non hanno Neanche le braccia Queste Figuriamoci Se serve a qualcosa Niente Dito del manichino In questo caso Non serve Oddio Oh Ma Erano girate al contrario Prima ragazzi Do Ma cos'è sta storia Cioè i manichini Erano girate al contrario Prima Boh Forse Forse Boh Ok Controlliamo Questa roba qui Qui Cassetti Non ci indica niente Non dobbiamo aprire Praticamente niente Ok Torniamo giù ragazzi Non c'è niente di Oh cazzo Cos'è sta storia Ragazzi abbiamo un manichino in più Chi cazzo ce l'ha messo qui Scendi giù dalle scale Vieni con me Vediamo se riusciamo a spingerlo Si Oh Vai giù Che ti porta a fare un giro oggi Cacchio è sta storia Ragazzi Io non ho sentito nessun passo Niente Va bene Ok Procediamo ragazzi Allora proviamo ad andare di qua Innanzitutto Allora qui dentro Il ripostiglio Che cazzo è ragazzi Oh cacchio Mi sto cagando sotto ragazzi Non è il caso sai Ok andiamo di qua ragazzi Perché noi siamo venuti da quella porta Lì a A destra E siamo andati prima a sinistra Come abbiamo visto prima Allora qui abbiamo un muro Abbiamo appena Sorpassato la porta E adesso Per cercare Perché qua non abbiamo Come avete visto Una sorta di mappa Come succedeva una volta Che ci indica Il percorso Diciamo non da fare Ma che almeno Riusciva a memorizzare Grazie a una mappa Qui non abbiamo niente ragazzi Quindi dobbiamo andare così A intuito E cercare di ricordarci Insomma le porte Che apriamo I posti dove passiamo Anche se a volte Possono sembrare Tutte un po' uguali Nel senso che Abbiamo preso delle cartucce Per pistola Se non ho sbaglio Oh che bella bicicletta Ragazzi Mamma mia Che schifo Madò Sembra che puoi Attaccarci qualcosa Attaccarci qualcosa Cos'è questa roba qui Allora possiamo usare No la tronchese Non penso Perché qui serve Una pinza O roba del genere Comunque Andiamo avanti ragazzi Qui c'è qualcos'altro Sì Tiriamo la catena Non c'è acqua Nel serbatoio Ok Allora la prima porta Ce la siamo fatta Ed era la prima porta A destra Qui sembra un'altra porta No Non lo è Procediamo ragazzi Andiamo avanti Controlliamo sempre Tutta la zona Quaderno vuoto Eh sì Magari ci voglio scrivere Qualche ricetta Di cucina Visto che non sono Tanto bravi a cucinare Abbiamo visto questi Munizioni Per pistola Assolutamente Da prendere Non so se abbiamo Una pistola No al momento Non abbiamo Una pistola Quindi Dobbiamo Assolutamente Cercarne Una Cos'è sta roba Niente Niente di utile Perché non ci mostra Neanche Ok E quest'altra Porta è chiusa Però ragazzi Adesso che ci penso Cioè abbiamo preso La videocassetta Noi dobbiamo portarla Nel televisore Adesso che ci penso Quindi corriamo E Non perdiamo tempo E andiamo direttamente Nella sala Della televisione Che mi sembra Che fosse qui a sinistra Se non sbaglio Esatto Cioè ormai è casa mia Questa ragazzi Me la ricordo Questo cos'è? Aia Non è il momento Di suonare ragazzi Comunque Utilizziamo La videocassetta Che abbiamo appena Recuperato E spariamoci Questo bel filmetto Ragazzi Vediamo cosa ci fa vedere Ok Casa abbandonata Ma dove l'hai trovato? C'è un taglio Ehi Lavoro con i professionisti A proposito Controlla che l'audio funzioni Non voglio un nuovo amarillo Ma è una storia di due anni fa E non mi doppio Siamo nel filmato ragazzi Perché mi sto muovendo Io sto muovendo io la telecamera Vello nuovo? Non mi piace Ok E' praticamente un flashback Piano B Apriamo Filmiamo l'interno E poi parte l'intro Come sempre insomma Però Di il nome del programma Stavolta Tranquillo Stasera Su Air Gators Un altro posto del cazzo Inutile Felice? Deliziato Ok Si parte ragazzi Andiamo all'esplorazione Mi sembra che sia finita Tanto bene Però la questione Siamo pronti? Ok Apri sta porta Cominciamo Dopo di lei Signore Bene Ecco Tu sei che sei uno Sveglio ragazzo Dopo di te Allora perché Siamo scesi all'inferno Ti prepari mai? Cosa abbiamo? Casa schifosa? Rumori strani? Uh è stregata? Che caso? Era un presentatore io Sospituto Pete Sospituto Cosa? Nulla La storia Andre Una fattoria abbandonata Una famiglia scomparsa E forse un delitto Il solito Da quanto hai detto Che è abbandonato? Tre anni Assombo Eh si L'odorino non deve essere Un granché Quindi Questi contadinotti Scompaiono I Baker Non dei contadinotti Jack e Marguerite Baker E chi sono? Tranquilla Non arretrata Girano brutte voci Sul figlio Lucas La pecora nera Ah merda Cosa hai pestato? Sapevo di dovermi mettere le altre Ma non c'è niente per terra Che cazzo ti lamenti? Oh merda Sono vaccinato Comunque È un gran bello sfondo Andre Che dici? Andre? Dove è finito? Andre? Andre È andato di là Ehi Clancy Hai visto Andre? No io non ho visto nessuno Bene ragazzi Continuiamo Oh cazzo Non posso credere Non lavorerò mai più con lui Alla fine i produttori vanno e vengono Ma un buon cameraman come te Resta vicino Bene ragazzi Abbiamo già visto che La questione comincia a essere complicata Già In cinque minuti è sparita una persona O perlomeno non risponde Speriamo non mi sia successo niente di grave Cos'è stato? Sentito? No Non ho sentito niente io ciccio Comunque apri questa porta Questa dovrebbe essere la porta Dove abbiamo infilato la videocassetta In teoria Dove cazzo è? Momento delicato ragazzi Andre dove sei? Muoviamoci piano piano ragazzi Dove sta andando questo? Che diavolo Ah c'è una leva nascosta Come faceva a saperlo sto ciccio qua? Troviamo Andre e poi ce ne andiamo Fa il culo lo show Va bene Ci sto Usciamo fuori da sta casa di merda Ok Allora Proviamo R3 per accovacciarci Perfetto E andiamo dentro con lui Oh ciccio Spero che non hai mangiato pesante Ok C'è una scala ragazzi Chi scende per primo? Dai scendo io Perché se no testa è qui mezz'ora Ok Scendiamo la scala ragazzi La situazione è abbastanza inquietante Il tipo di sopra è ancora lì Che si lamenta Scendo non scendo Scendo non scendo Scendo io Che facciamo prima? Perché se dobbiamo aspettare Aspettare te Ehi ciccio Si è addormentato? Oh cacchio Che cacchio è successo? No Non mi sembra molto vivo ragazzi Eh neanche io mi sa Bene ragazzi Videocassetta finita Praticamente ci ha spiegato Quello che è successo Ora siamo nel presente Qui nuovamente Davanti alla televisione Ti sfraccelerò con la pietra Ok Grazie per l'avvertimento Me l'hai detto già un paio di volte Bene Abbiamo scoperto un nuovo posto Quindi proviamo a In teoria La porta qui è chiusa Quindi proviamo a Esatto Ad azionare la leva Magica Dove ci porterà Nuovamente Nello scantinato Non sono tanto sicuro Di scendere nuovamente Lì dentro Perché abbiamo già visto Quello che è successo Allora Torniamo Non c'è più la scala Ragazzi Non c'è più la scala Diamo un'occhiata Ma c'è una chiave Qui per terra Chiave porta sul retro Perfetto ragazzi Usciamo via di qua Immediatamente Niente proprio Ok Allora per uscire da qui Non mi ricordo più la strada Adesso chiaramente Vorrebbe Oh che cazzo Merda Che brividi ragazzi Chi cacchio era quello Non c'è già più Oh cacchio Ok la porta sul retro Dov'è la porta sul retro Cacchio Dobbiamo sbrigarci Non penso sia di qua La porta sul retro Mi sa che è tutta altra parte Ragazzi Stiamo andando nella strada Forse questa No Questa Si va in cantina Dove ci sono cose ancora Più belle da vedere ragazzi Allora questo deve essere il cesso Ok Torniamo di là ragazzi Senza farci vedere dal tipo Adesso corriamo Perché Non si sa bene dove è finito lì qua Cacchio Cos'è sto rumore Dove cacchio È la porta sul retro Non mi ricordo più ragazzi Dov'è la porta sul retro La porta sul retro Oh cazzo È quella la porta sul retro ragazzi Ma il manichino si muoveva da solo Cioè non ho capito bene Sta cosa Ok Dai usa la chiave Usciamo fuori da questo posto di merda Ok Chiave porta Prima o sera Usciamo subito ragazzi qua Ho un po' di luce Benvenuto in famiglia Oh cacchio ragazzi Non era un zombie Non era un mostro e non era neanche uno zombie Ma praticamente Ha piacere Di tenerci come ospiti Dentro la sua casa La sua bella fattoria E mi sa che ci ha steso E mi sa che ci ha steso Nuovamente questo qui Ok ragazzi Penso che la demo sia finita Perché a quanto pare È ricominciato nuovamente da capo Penso che questa qui sia nuovamente La parte iniziale Del gioco Vediamo se è qui Ah no Ci sta facendo vedere La parte mancante ragazzi Eccolo ragazzi Niente La questione non è finita tanto bene Comunque abbiamo visto Gioco veramente bello Sicuramente Penso di prenderlo ragazzi Perché Mi sta appassionando Sin da subito È veramente coinvolgente La paura Poi ci sono stato un paio di momenti Ah il 24 gennaio 2017 C'è stato un paio di momenti Che mi sono venuti I brividi dallo spavento Perché Sai Sapete Con questa visuale Alla fine Con la musichetta sottofondo All'improvviso Sbuca qualcuno Un rumore Ti viene un po' di scagotto E niente ragazzi Spoliciate Fatemi sapere Se siete d'accordo Che porto questo canale Su canale youtube Questo nuovo gioco Che così Parto col preordine E acquistiamo subito Il game Grazie a tutti Il vostro sconto ragazzi E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.